mister una partita quest'ultima della stagione che è un po emblematica di tutte le difficoltà che avete incontrato durante tutta la stagione oggi siamo già partiti con praticamente avevamo due ragazzi la prima squadra due under e tutti gli altri anni di unione se avevamo anche un altro giocatore della prima squadra in panchina ma perché è venuto più che altro col cuore perché aveva la caviglia gonfia di fatti non ha fatto neanche minuto che giustacchini avevo bianco il capitano e ausenda purtroppo avevo anche due squalificati che sono melini e torre che sarebbero stati però questi comunque sono gli ultimi quelli che sono arrivati alla fine il resto purtroppo si è perso strada facendo e abbiamo giocato con i ragazzi sapevamo una partita difficile pensavo che venissero con qualche under in più invece poi alla fine i quali under and quarter comunque era 3 92 e un 91 mentre noi avevamo 95 96 abbiamo giocato la partita col cuore ci abbiamo provato per noi una partita importante perché è l'ultima come ho già detto è l'ultima quindi non è solo l'ultima stagione è proprio l'ultima e ha un peso diverso in tutti i sensi i ragazzi ci hanno messo il cuore ci hanno giocato io credo io credo che qualche episodio ma non ma non perché tanto la partita finita 5 a 2 però qualche episodio poteva anche essere visto in modo diverso dagli arbitri ma io io sono convinto che gli arbitri quando vanno arbitrare quando vengono arbitrare leggano prima la classifica e di conseguenza se un dubbio va dalla squadra che comunque davanti che che ha i playoff mentre noi siamo a zero punti e retrocessi già da qualche settimana e questo è una cosa che comunque non va bene non aiuta sicuramente il chi fa calcio perché chi fa calcio viene qui e la partita è 0 a 0 quando inizia poi finisce 5 a 2 finisce 8 a 1 ma quando comincia 0 a 0 e gli arbitri dovrebbero considerarla tale dopo due minuti voi forse da qua non l'avete visto hanno battuto poi siamo andati a rivedervi hanno battuto un fallo laterale con la palla in campo il prato l'arbitro si è avvicinato e gli ha detto qualcosa tipo la prossima volta lo fisco qualcosa del genere e non ha fischiato il fallo saranno passati un minuto e ci ha fischiato un cambio di gioco a noi con Anok sicuramente era in campo la palla ma come la prima e la seconda è uguale e non so se da là si riesca poi a andare a evidenziare è una cosa stupida però la diversità di atteggiamento e poi rigore cioè se non avesse avuto le mani gli finiva sul petto quindi voglio dire con un po di buon senso ha messo le mani per pararla ho capito però tanto gli andava sul petto se no gli poteva fare anche male voglio dire uno comunque se protetto non la faccia non è che ti puoi proteggere solo la faccia e poi tre minuti dopo comunque sul 5-2 a pochi secondi alla fine che quindi non ti cambia il risultato la palla è toccata con le mani è fermata lì sì che lui e la perdana non l'ha fatta apposta però è rigore anche quello lo dai e basta è fine non lo facciamo perché noi riusciamo anche a sbagliarlo però dai rigore non è che devi decidere tu il risultato prima della partita che non tante volte hanno fatto qualcuno l'avete anche registrata vogliamo andare a vedere li possiamo vedere tutte e vedere se ce n'è una dove per sbaglio una volta nel conteggio delle situazioni abbiamo avuto dei vantaggi purtroppo no purtroppo non li abbiamo avuti ma non siamo a zero punti per questo perché come dicevo sono rimasti in 5 giocatori della prima squadra oggi due in campo ci siamo persi ma facendo punti sicuramente non saremmo a tre punti perché se fai punti non ne fai tre poi vinci c'è il morale ti alleni ci siamo tutti come lo sappiamo come funziona nel calcio adesso anche tu sei nel calcio quindi sai benissimo come funziona ci sono anche arbitri bravi arbitri con il buon senso che arbitra però tanti veramente sono forse perché i gironi sono pochi manca un girone perché mancano 14 squadre se non sbaglio e quindi sono tanti arbitri e devono fare arbitrare tutti e io qualcuno lo manderà a casa concludiamo dicendo la Blue Orange parteciperà al prossimo campionato di Serie C? questo non lo so non lo so perché io sicuramente non ci sarò però qualcun altro può prendere il mio posto è il posto è libero quindi può prenderlo chiunque